Parte il nuovo cartellone del teatro Carlo Gesualdo Di Avellino con 16 spettacoli fino ad aprile, musica, prosa, danza, musical, cabaret e intrattenimento dedicato ai più piccoli. E poi due concerti evento con Luciano Ligabue e Claudio Baioni. Nel cartellone Giovanni Allevi, Massimo Ranieri, i Momix, Fiorella Mannoia, Max Giusti, il duo Solenghi Lopez, Lucilla e il cast di Marefuori, Umberto Galimberti, e il music or fame, Maurizio Battista, Nina e Matti e gli omaggi a Raffaella Carrà, Ennio Morricone, poi lo schiaccianoci, Sergio Rubini e Daniele Russo. Per i due concerti evento Luciano Ligabue dedicato a noi inaugurerà la stagione del teatro Gesualdo il 18 ottobre e le tre date storiche di Claudio Baioni con il suo piano di volo Solo Trist che sarà ad Avellino l'11, il 12 e il 14 novembre. Ci sono anche delle promozioni speciali riservate agli under 30 per i quali sarà possibile acquistare l'intero carnet della nuova stagione del Gesualdo o i biglietti dei singoli spettacoli, esclusi quelli fuori cartellone, con una scontistica del 30%. Per le associazioni di carattere sociale, culturale e teatrale della città, le scuole di danza e gli over 65, sono previste riduzioni sul costo del singolo bietto, comprese tra il 10 e il 30%. Siamo in crescita, in crescita da un punto di vista qualitativo e nonostante i tempi molto stretti siamo riusciti a portare degli artisti importanti e ad offrire alla città di Avellino una proposta culturale importante. Per avere tutto, ogni tipo di pubblico è necessario avere in cartellone le varie sfaccettature, i vari artisti dalla danza e in tutti i casi comunque grandi, grandi artisti. Avere i Momix è per me motivo di grande orgoglio averli qui ad Avellino, qualche giorno prima di Roma peraltro.